Mio nonno una volta mi ha detto vedrai così tante porte sbattute in faccia che ad un certo punto della tua vita inizierai a sbattertele da solo. Ho scritto una sceneggiatura. E veramente se non riesco a dare una spinta a sto benedetto film, io mi appendo. No, Anto, non faremmeno dramma. Guardaci, stiamo capendo le priorità della vita. Allora, quando cominciamo le riprese? Anto, vuoi fare cinema? Fai cinema, ma è così. Beh, è un po' presto, bisogna prima comprare tutta l'apprezzatura necessaria. Ma a parte ciò ho sempre avuto il pallino del cinema solo che non ci ho mai creduto veramente e stavolta ci voglio chiedere. Quindi ti alzi da questo cazzo di divano e vai a riprenderti sto cazzo di film. E come lo chiamiamo sto film? Il vero cinema è lontano da qui. Lontano da qualsiasi cinepresa.